Ciao a tutti da Filippo Giannini di Trading Facile e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con la videoanalisi sui principali mercati e le strategie dei nostri trading system, oggi mercoledì 27 settembre 2023, focus di oggi sul Fuzzi Mib. Prima di iniziare al solito vi ricordo di seguirci sul nostro sito www.tradingfacile.eu, tra l'altro abbiamo recentemente apportato alcuni miglioramenti al layout del sito, quindi vi invito a visitarlo e scoprire tutto il materiale gratuito, trovate tantissime guide oltre come al solito a tutti i nostri trading system, inclusi quelli che potete ottenere con licenza gratuita, per qualsiasi informazione come sempre vi invitiamo a contattarci via mail, via telefono e anche a seguirci sui nostri principali canali social, ovvero canale YouTube, pagina Facebook e canale Telegram. Approfitto anche per ricordarvi i prossimi webinar gratuiti, sono già online i link per iscrivervi che trovate oltre sul nostro sito, li trovate anche sotto la descrizione di questo video. I prossimi appuntamenti saranno per lunedì 9 ottobre, appuntamento nel quale parleremo del mercato del petrolio e quindi come approcciare a questo particolare tipo di strumento e poi invece il 25 ottobre che invece sarà un evento diciamo dedicato a chi sta approcciando in questo momento, sta muovendo i primi passi del mondo del trading, quindi sarà un evento un pochino più dedicato magari ecco a chi vuole apprendere le basi principali del trading. Quindi mi raccomando se volete seguirci il webinar come al solito sono gratuiti, i link li trovate sul sito o sotto la descrizione di questo video. Bene, come detto, tema di oggi il nostro Fuzzimib, mercato che è stato protagonista nelle ultime di sessione di una correzione anche piuttosto marcata e qui appunto vediamo che cosa che anche questa settimana è iniziata all'insegna dei ribassi. Per la verità nella sessione di venerdì il mercato con questa candela resistiva sembrava voler appunto porre fine ai ribassi e quindi appunto dopo la tenuta venerdì di quota 28.600 punti sembrava che potessero appunto potesse essere questo un viatico per assistere ad una ripresa delle quotazioni in questa settimana e invece già a partire da lunedì il mercato ha registrato appunto nuovi minimi appunto di periodo andando quindi a rompere i minimi di venerdì scorso e anche la giornata di ieri notoriamente il martedì ovvero la giornata più forte di tutta quanta la settimana si è risolta invece con un nuovo breakout a ribasso e il mercato che ha chiuso quasi con un meno uno. Sotto questo punto di vista c'è da registrare appunto una forte pressione sull'obbligazionario che ha inevitabilmente poi portato vendite sull'azionario nel senso che comunque sia quello che abbiamo visto anche sul fronte americano e quindi anche sul fronte europeo è comunque un'aspettativa appunto di tassi alti ancora insomma per un periodo piuttosto lungo quindi questo ha portato appunto del panico tra gli operatori si fa sempre più concreta la possibilità che la Fed e anche la BCE procedano ad ulteriori rialzi dei tassi per frenare comunque sia un'inflazione che complice anche i rialzi del petrolio si mantiene ancora su livelli piuttosto alti e secondo me appunto c'è in questo momento un po' di paura l'abbiamo visto anche con la volatilità che si è alzata appunto notevolmente nel corso delle ultime sessioni e per quanto riguarda appunto il Fuzimib ripeto è sintomatico appunto che la giornata di ieri sia risolta appunto con una candela fortemente ribassista quindi in questo momento dal mio punto di vista ci sarà da fare molta attenzione perché il mercato potrebbe ancora nel corso di questa settimana percorrere la via del ribasso in particolare quali sono i livelli che ritengo vadano attenzionati il prossimo livello chiave secondo me è quota 27.900 punti non siamo troppo lontani appunto da questo livello nella giornata odierna in particolare se il mercato dovesse sta cercando in questo momento appunto un rimbalzo però non so fino a che punto il mercato avrà la forza di appunto di effettivamente effettuare un rimbalzo importante piuttosto io mi aspetto che in caso dovessimo tornare sui minimi di ieri quindi il mercato dovesse andare a breccare arrivassi minimi di ieri magari dopo l'apertura di Wall Street magari nel pomeriggio io mi aspetto che il mercato vada incontro a nuove vendite quindi è possibile che si assista oggi a un test di quota 27.900 e qui secondo me sarà un po' l'ago della bilancia perlomeno su base settimanale perché? Perché qui troviamo oltre ad un livello importante di supporto dal punto di vista volumetrico ma troviamo anche ben due pattern, tre se vogliamo anche inglobando anche questo dell'8 agosto ben tre pattern resistivi quindi qui il primo a cavallo tra il 17 e il 19 ottobre dove il mercato aveva completato appunto un modello di inversione rialzista di tipo Morningstar e poi anche nella giornata dell'8 settembre dove qui abbiamo visto appunto disegnare una candela resistiva di tipo Hammer e da qui poi siamo nuovamente risaliti quindi questo ritengo sia un livello importante se la pressione a ribasso sull'azionario dovesse continuare quindi il mercato dovesse andare a scambiare sotto quota 27.900 beh allora attenzione perché il mercato potrebbe spingersi fino a quello che ritengo essere il prossimo livello importante di supporto che è quota 27.400 punti quindi io mi aspetto insomma ecco se questa settimana dovesse essere ancora debole appunto mi aspetto che il mercato possa anche andare a testare questo livello per quanto riguarda la stagionalità del mercato abbiamo secondo me ancora un paio di settimane all'interno delle quali il mercato può anche andare a fare nuovi minimi quindi occhio poiché fino a sostanzialmente all'8 ottobre c'è ancora una stagionalità marcatamente ribassista può sembrare insomma un obiettivo diciamo importante quello del test dei 27.450 27.430 ma se comunque guardiamo a quello che il mercato ha fatto in ottica annuale vedete che comunque sia siamo partiti da qui e quindi ovvero da quota 23.000 punti 23.600-700 punti circa quindi di fatto anche se il mercato dovesse andare a ritestare quota 27.4 a mio avviso sussisterebbero ancora le condizioni per assistere comunque ad un nuovo uptrend per quanto riguarda la fine dell'anno quindi questo è quello che mi aspetto comunque per le prossime due settimane secondo me l'unica mossa che potrebbe in qualche modo porre fine alle vendite secondo me è il recupero di un'area importante come quella dei 28.600 punti se dovessimo vedere acquisto su questi livelli allora secondo me ci sarebbe spazio per vedere poi il mercato tornare appunto sui livelli pre diciamo scadenza tecnica andiamo adesso al solito a commentare alcune operazioni svolte nel corso delle sessioni precedenti dai nostri trading system iniziamo con questa strategia che è una strategia bias sul gold strategia che abbiamo già visto diverse volte nelle ultime due operazioni abbiamo visto le ultime due sessioni che sono state comunque caratterizzate da una forte debolezza per quanto riguarda il mercato del gold abbiamo visto un'operazione andare in stop che è appunto questo long aperto su questo tentativo di reazione nella giornata del 25 di settembre stop che però è stato ampliamente compensato da questo long appunto che invece è stato aperto nella giornata di ieri con il mercato che appunto è stato caratterizzato da forte debolezza la seconda strategia che vediamo qui invece è una strategia anche questa è una strategia bias questa volta sul mercato del crude oil e qui vediamo che dopo qualche altalena appunto di ribassi per quanto riguarda il crude oil complice anche qui la scadenza tecnica del contratto future poi nella giornata di ieri il mercato è stato caratterizzato da un'ottima appunto reazione e qui siamo entrati appunto long nell'orario prestabilito portando appunto l'operazione poi in overnight come da programma sfruttando appunto quella che è una finestra oraria particolarmente favorevole ai rialzi per questo mercato l'ultima operazione o meglio l'ultimo sistema che vi mostro invece questo è un sistema nuovo un sistema del quale parleremo appunto proprio nel prossimo webinar del 9 ottobre dedicato al mercato del petrolio questa è una strategia che invece è prettamente trend following lavora a breakout e qui ve la faccio vedere perché particolarmente importante secondo me interessante l'operazione a rialzo aperta di fatto questa notte vedete che appunto siamo entrati sul breakout appunto del massimo del giorno precedente poi chiaramente nel corso del prossimo webinar vi spiegherò anche tutte quante le regole di ingresso e vedete che il mercato ha già fatto questo pullback, ritestato questi livelli di ingresso e sta in questo momento facendo nuovi massimi giornalieri quindi come detto all'inizio per chi vuole l'appuntamento è appunto per il 9 ottobre alle ore 18 bene anche per oggi è tutto un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading grazie a tutti grazie a tutti